Credo sia vostra evidenza ad affidarlo a Monsignor Suetta, quale nuovo pastore di questa nostra biogesi. Eccellenza reverentissima, piano piano arriverà a conoscere le potenzialità del popolo che le è affidato e ovviamente anche i suoi vittimi. Saranno questi che potrebbero farla soffrire, ma un escovo, come ogni sacerdote, vale più per la sua capacità di redenzione che per capacità manageriali o tanta organizzazione. Quanto più grande è il peso della sua croce, tanto più te e più grande davanti a Dio. Solo puntando il nostro sguardo su di Lui c'è un futuro per noi. Mi creda la gente comune e buona. I praticanti non sono molti. I sacerdoti le saranno fedeli, come è stato per me. La sarò anch'io vicino, soprattutto nella preghiera. Con l'aiuto di Dio, della Grazia Vergine Maria e dei nostri Santi Patroni, le auguro di poter riuscire ad avere tante risposte sincere e di poter coltivare nella gioiosa speranza frutti e di grazia per una bontà per il rapporto. A molto bene.